salve popolo di youtube bentornati finalmente siamo qui in una nuova puntata di questo di questa analisi critica a full trotter con cristiano è passato un po perché abbiamo avuto dei problemi di tenatura tecnica oltretutto c'erano anche le ferie in mezzo quindi chiedo scusa perché è un po colpa mia e niente qui siamo tornati cosa è successo ben ha visto un posto di blocco e sta andando a bloccare i suoi polecats no si dovrebbe qui superare il posto di blocco per raggiungere la sua la sua band quindi torna indietro e ci abbiamo questa diciamo breve fasi di backtracking un pochino del gioco c'è la gang non band non è mica giusto ho detto band mamma mia no non lo so eh potrebbe vabbè qui abbiamo altri esempi di di fantastico e prendiamolo di finto napoletano torna il napoletano qui eh comunque stanno dicendo qui c'è un po di backtracking uno dei pochi backtracking alla fine che c'è nel gioco perché non è che ne fanno tanti in effetti qui c'è un riciclo di un vecchio enigma perché noi sappiamo che toccando la scala tornano i poliziotti e quindi quindi li chiamiamo così ecco qui parte una sequenza filmata abbastanza importante che i vestiti in teoria dice vestiti ma si riferisce a ai ai gangster che sono vestiti ma ecco eh ma infatti te l'avrei chiesto i vestiti non si capisce cosa vuol dire sì 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 perché in inglese probabilmente diranno i vestiti insomma i tie come si chiamano i sweets sì sì sweets forse le giacche nel senso dire quali i vestiti bene sì 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 eh ma infatti qua te l'avrei chiesto perché non ha molto senso la battuta sui vestiti nota qui come la battuta è stata sottolineata dal primo piano sai quella ci siamo già e qui c'è la fantastica canzone di Corley e qui abbiamo una nostra conoscenza la nostra giornalista francese che fotografa il fattaccio insomma questa poi ritorna importante questa sequenza alla fine no del sì sì ecco queste foto qui che abbiamo ecco vediamo questo bruttissimo primo piano di ribburger e abbiamo l'omicidio insomma di Corley quindi è psicopatico lei viene catturata e abbiamo sempre questa cosa dei primi piani di usare in un certo senso la tecniche cinematografiche è molto molto elaborata ed è corale come sequenza infatti secondo me qui ci sono anche dei problemini nel doppiaggio italiano perché vedi per esempio lei non qui era molto più infatti che in quella nel doppiaggio inglese qui invece sembra quasi che stia sussurrando come stesse parlando di fronte a ribburger ma è una scena abbastanza elaborata quindi qui magari ci può stare che il doppiaggio non sia proprio perfetto anche qui nell'adattamento per esempio fatto dei vestiti non era chiarissimo d'altra parte non avendo probabilmente il gioco davanti è probabile questo che non avessero la scena davanti cosa strana che comunque come dicevamo fuori onda la traduzione è stata fatta dopo cioè nel senso non è uscito il gioco non è uscito già tradotto in italiano in Italia è uscito prima in inglese e poi dopo è uscito tradotto sì ma io penso comunque che i doppiatori non avessero le sequenze vedi anche qui c'è un problema di lip sync no perché evidentemente la frase italiana è più lunga di quella inglese quindi quando Corley finisce di parlare si vede che la bocca si ferma in realtà poi si sente la voce che continua quindi dopo si nota anche un po' meglio mi sembra ecco il piano diabolico il piano diabolico di Ribburg è di trasformare la fabbrica che costruisce moto in una fabbrica che costruisce furgoncini una cosa orribile che un po' anche fa un po' ridere come cosa infatti ricordiamo che Corley questo vecchietto qui che muore è l'ultimo ecco qui si è fermato si ha fatto un phrase infatti adesso proprio si vede vedi mi sembra che è questa frase ecco guarda è proprio chiarissimo evidentemente la frase italiana dura di più si sono preoccupati di accorciarla allora frizzano un po' i frame allora c'è lui che blocca la bocca qui c'è il famoso colpo di scena è il colpo di scena quindi sappiamo che Maureen in realtà è la figlia di Corley quindi è quella che stanno per far fuori in un certo senso che spiega anche perché è così brava a fare meccanico in qualche modo ed è anche brava anche un manco a difendersi come vediamo che riesce a andare perfettamente da sola liberarsi di questo sbruffone questo pontolone senza il nostro aiuto vedi come qui hanno riutilizzato la stessa scena di Ben che abbiamo visto anche di giorno però in modo simmetrico cioè da destra a sinistra in modo tale che sempre che stia tornando indietro si è uno squalido trucco è un effetto a specchio una finta di che lui torna indietro si 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 no perché poi lui è inizialmente è andato dalla parte opposta anche qui vedi il primo piano di Reburger prima era illuminato a giorno ma è sempre lo stesso sempre lo stesso dell'inizio del gioco si insomma si risparmia appunto sulle animazioni qui è normale che stia così fermo ah si ok si io credo anche qui mi suona un po' strano sai la parte inglese qui staccava molto prima perché rimane imbambolato per molto tempo no ma sai infatti c'è un fatto importante secondo me che se ricordo bene nella versione cioè i nuovi pc hanno problemi comunque sono troppo veloci e allora quindi certe volte la musica non è sincronizzata bene all'immagine io ricordo che sul mio vecchio 386 con le musiche le musiche davano molta più soddisfazione che sembrano molto più integrate invece adesso finisce talmente presto la scena con questi caricamenti fulmini che non c'è qualcosa però la con scum vm in teoria dovrebbe essere eh lo so però si però comunque è troppo accelerato in certi punti infatti anche per la morte di Corli c'erano la tosse era più lenta la musica accompagnava in modo diverso era più questo si nota molto nella sequenza finale in quella scena laser game diciamo poi quando ci arriviamo ne parliamo bene qui ecco rivediamo la stessa foto di prima anche qui è un bel riciclone e quindi da qui noi giocatori capiamo che molto probabilmente Maureen è sfuggita e molto probabilmente è andata in quel ranch di cui ci aveva parlato all'inizio nella nostra seconda puntata insomma però è interessante questo backtracking a me piace un sacco nelle avventure quando si torna in posti che si sono gesperati precedentemente ma posti in qualche modo rivoluzionati tipo che sono distrutti o che è cambiato completamente lo scenario cioè sono vecchi posti ma completamente trasformati qui chiaramente Murino non c'è più la scala è tutta distrutta non c'è più nessuno dentro quindi è cambiato un po' l'aspetto sì ecco qui diciamo che ecco ah no non ha sbagliato perché Pannocchia prova a ritornare indietro ma adesso eh forse dovrebbe esatto non può più non può più andarci perché ormai la polizia la polizia ha scoperto il delitto e quindi anche i membri della gang di di Ben sono stati arrestati perché sospetti appunto di centrare qualcosa con questo omicidio sospettati sai che una cosa che mi piaceva mi faceva proprio impazzire era una cosa semplicissima il suono della moto di di Ben cioè proprio sai il rompante era potente senti com'è cioè ed era una cosa chiaramente questo è un suono digitalizzato quindi noi non eravamo neanche abituati ai tempi no perché era tutta roba campionata quindi sentire questo questo rombo così realistico era sì così bello urgente bello bello poi dopo ogni moto ha il suo rombo dopo anche poi nella la sezione in futuro lo vedremo meglio ecco qui si ritorna nel posto dell'inizio ecco anche qui questa cosa fa molto Monkey Island nel primo quando c'è quello che ti chiama nel licolino ah sì sì è vero il Lee Fester sì ha messo poi che sia lui perché è un vecchianissimo ah qualcuno ci ha chiesto se la giornalista francese fosse come doppiatrice Eldo Livieri che è la doppiatrice di Nicole Collard di no non mi sembra che l'abbiamo già detta questa cosa io l'ho ascoltata un po' il dubbietto ce l'ho lo so secondo me no secondo me no adesso io non ci ho guardato perché basta presto si fa presto basta guardare i credits eh l'ho visto però su Antonio Genna ho visto e manca proprio la doppiatrice di questo personaggio quindi il dubbio beh ma anche nel gioco nella confezione insomma penso si tu dici che sul manuale in italiano c'è scritta la lista dei doppiatori italiani non lo so beh può essere comunque ci guardo in ogni caso comunque io a orecchio direi di no non mi sembra che sia l'Olivieri abbiamo ascoltato scusa un riferimento star warsiano la battuta della principessa Leila vabbè così ah sì scusami ci voleva ci voleva lui ovviamente ben dice ti aiuterò ma in realtà ha riconosciuto l'ipocrisia della giornalista vuole farla vuole farla festa sì lei gli ha dato praticamente questo pass per la polizia pass da giornalista adesso sì sì no è un pass se non sbaglio di sì per passare i posti di blocco per il come investigatore privato ecco qui l'hanno riconosciuto subito anche qui c'è un errore di sincrono perché ovviamente qui ogni tanto il ecco ecco sì c'è sta cosa dell'annunciatore che sembra molto quello dei Simpson no che Brockman che fa questa faccia di morto sì qui qui ricordo anche che era pure un po' più efficace in originale comunque qui sì perché ci tiene sensazionalistica la notizia anche anche il modo di dire polecat è un po' bruttino in italiano chiaramente beh polecat sono cose del genere no sì sì è più contratto se non mi ricordo mai anche qui chiaramente è una location che abbiamo già visto qui era mattina comunque era il giorno quando siamo all'inizio del gioco quando abbiamo visto l'inizio del gioco poi c'è questo personaggio curioso che insomma possiamo sì Emmett viene introdotto qui un camionista che porta del fertilizzante qui volevo dire una cosa sul doppiatore originale cioè quello americano che è Mark Hamill l'abbiamo anche citato prima nella prima puntata credo quando abbiamo parlato di Reeburger perché lui ha doppiato Reeburger Emmett e se non sbaglio Todd che è quello della Roulotte Mark Hamill è un personaggio molto noto a noi nerd perché comunque ovviamente oltre del fatto aver diciamo interpretato Luke Skywalker nella prima trilogia di Guerra Stellari è anche un diciamo un doppiatore di un certo peso prima in effetti ha cominciato a fare il doppiatore con i videogiochi e questo se non erro il suo secondo gioco in cui ha lavorato come doppiatore il primo è proprio un'altra avventura grafica Gabrielle Knight in cui ha doppiato Detective Moseley poi va bene penso che io e Alberto lo conosciamo per il ruolo di trickster nella serie di Flash nella serie di Flash sì sì meraviglioso e poi dopo è diventato piuttosto noto per essere diventato il doppiatore ufficiale di Joker nella serie animata e anche nei videogiochi se non erro anche nei primi due Arkham Asylum sì sì lui ormai è diventato ogni volta che hanno bisogna doppiare il Joker in America chiamano Mark Emmett perché è diventata una voce iconica ormai e film animati anche in effetti sì sì sempre sempre infatti anche nei video come dicevi tu giustamente anche in due Arkham Asylum e Arkham City è doppiato da Mark Emmett un grande doppiatore un grande personaggio secondo me peccato che chiaramente non abbia avuto poi grande incidenza nel mondo del cinema dopo con Luke Skywalk però poi l'abbia rivisto in Wing Commander no ah è vero è bravo hai ragione mi hai dimenticato questa cosa che fra l'altro mi ero anche preparato bravo lui è il protagonista proprio di Wing Commander 3 4 infatti interpreta Christopher Blair il protagonista e c'è anche nel 5 in un ruolo un po' più diciamo di secondo piano però adesso che mi ricordo in Wing Commander c'era anche un altro attore che però faceva parte forse di Star Trek non ricordo male beh ce n'erano parecchi c'era Thomas Wilson che ha fatto Ritorno al Futuro Malcolm McDowell che ha fatto Arancia Meccanica John Rhys Davis che ha fatto Indiana Jones e il Signore degli Anelli parecchio sì beh fantastico lui poi è apparso in tantissimi videogiochi però mi ricordo che forse c'era anche un attore proprio di Star Trek per quello che dicevo perché molti consideravano Wing Commander una sorta di anello di congiunzione tra Star Wars e Star Trek proprio perché ce l'hanno due attori iconici però adesso non mi ricordo sto ravanando nella memoria purtroppo forse me lo sono sognato io può essere anche mi trovo un attimo spiazzato comunque qui una cosa che possiamo anche dire è che purtroppo nel video non si vede comunque se si continua a insistere con Emmett nel nel chiedere di dargli il coltello a un certo punto parte una specie di easter egg in cui Ben effettivamente fa quel giochino col coltello e la mano cioè quindi per un po' si vede questa scelta che poi non serve a niente è proprio un easter egg però è giocabile quindi la trovate su YouTube se lo volete se volete darlo sì sì spero che col cambio te la capi meglio che col coltello Emmett qui ha dei piani comunque abbiamo smesso di ecco abbiamo smesso di commentare la storia comunque adesso Ben si fa dare un passaggio da questo Emmett gli dà il pass che ha preso dalla giornalista in modo che lui possa superare il posto di blocco e arrivare al ranch di quale parlavamo scopriamo poi scopriremo in realtà secondo me qui c'è un po' anche un po' di Deus Ex Machina nel senso che sta cosa che la giornalista guarda a caso è proprio la stessa giornalista che scopre la cosa ed è sempre lei che ti dà il pass insomma è un po' è un po' comodo diciamo che è anche per risparmiare un po' sui personaggi che sono sempre i soldi di due o tre sì il fatto che venire ha in possesso così facilmente di quel pass di questo pass così importante insomma è un po' lei dice che ne ha tantissimi infatti tira fuori una specie di lista infinita di pass diversi però sì il fatto che si trovi in quel punto preciso per due volte di seguito vabbè sì ecco qui c'è un ellissi temporale quindi è passato del tempo e ben scopriremo quanto Emmett sia viscido in questa insomma già da vederlo si vede che non è un personaggio molto affidabile e qui infatti sta armeggiando su qualcosa e non si capisce cosa ma lo scopriremo fra poco sì infatti comunque ci ha portato proprio al ranch che abbiamo chiesto in cui parte diciamo la seconda grande sezione del gioco sì qui cambiamo proprio ambientazione è una cosa che torna nei giochi di Team Sheffer anche successivi queste macro ambientazioni in un certo senso infatti adesso Emmett se ne va senza dire nulla tre secondi dopo Ben si accorge che è stato rubato un pezzo importantissimo nella moto sì e ha usato il tubo e quindi è rimasto dentro addirittura mamma mia Ben Ben schiuma arrabbia arrabbiatissimo infatti qui è tutto chiaramente un pretesto per farlo ecco questa location secondo me è interessante questa in cui entrerà adesso questa room perché poi non ci sono enigmi veri e propri in questa scena perché prendi solo i piedi di porco usa i piedi di porco con baulo è proprio immediatissimo però è una room che racconta cioè è una room che c'è il logo dei vulture e quindi si capisce che Maureen comunque fa parte di questo gruppo e si capisce in modo definitivo si vedono le foto queste pellicce di visione che spuntano no il logo della Corley Motors qui quindi è proprio una di quelle room narrative che in realtà nel gioco non è importante però racconta quindi un'ambientazione che da sola dice qualcosa senza gameplay ecco qui lui non fa vedere niente forse non c'è vedere e infatti questo è proprio un indizio del fatto che è proprio appunto solo un pretesto per far vedere qualcosa è qualche parte ecco qui qui è la croce delizia di questo gioco poi ci sarà una prossima puntata in realtà però questa questa strada insomma chi ha giocato a full throttle e chi giocherà insomma se la ricorderà sempre questa strada infinita si 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 va avanti e indietro continuamente comunque qui adesso è una sequenza cinematica molto bella questo filmato è meraviglioso cioè è molto ricco molto pregno pieno di vedi di stacchi di inquadrature e racconta moltissimo fra l'altro noi qua vediamo Morini in fuga come una motociclista vera che usa il turbo che aveva prima dato a Ben nella scena precedente aveva dato questo potenziamento e se l'è ripreso e infatti lei lo usa e Ben non lo trova più quindi si capisce che che bisognerà recuperarlo e nello stesso tempo oltre a vedere insomma questo questo montaggio che è particolare molto cinematografico rivediamo di nuovo Emmett che si vendica così e anche il logo dell'impero dell'impero galattico come tatuaggio sul braccio quindi un altro riferimento Star Wars e infine qui anche un altro cambio di un'altra informazione narrativa spuntano finalmente questi nuovi motociclisti Kayfish che vedi come vedi sotto esce no threat nessuna minaccia quindi lo superano bellamente e mi fa più impazzire la posa di Ben bloccatissimo fermo perché sa che se si muove lo massacrano appena muove un musco e qui attaccano il camion di Ben cioè vedi quante cose succedono in un minuto di filmato ma questo infatti è anche molto bello mi ricordo che era una gran figata insomma quando si giocava questo gioco e si arrivava in questo punto era molto bella è bella è molto dispendiosa però veramente qui succedono tantissime cose Morine Matti Kayfish l'inserimento in una nuova location cioè ricchissima poi esplode il ponte quindi c'è un altro ostacolo narrativo che è il ponte da superare si qui è poi quello che poi in effetti influenza il gameplay maggiormente è proprio il fatto che salta il ponte a termine di questa sequenza che però comunque ci ha dato tantissime altre informazioni quindi intanto tornano questi due scagnozzi quindi abbiamo anche vedete ci sono molti eventi che stanno andando avanti contemporaneamente quindi si incrociano quindi alla fine c'è una struttura narrativa anche abbastanza diciamo anche volendo anche complessa insomma iniziano fuori diversi elementi è veramente incalzante questo momento della storia vedi qua la voce fuori campo mentre Ben si sposta so quelle cose che uno dà per scontato in un film in un videogioco almeno questi videogiochi degli anni 90 non si vedeva mica così spesso questa tipo di struttura di linguaggio cinematografico questa è una cosa che mi è sempre piaciuta tantissimo che tu puoi raccogliere il fertilizzante come se fosse puoi prendertelo in tasca un progetto la saccoccia qui mi sembra che nel video non si vede però se non si rovescia il diciamo questo questo come si dice il rimorchio il rimorchio il rimorchio il rimorchio il rimorchio noi possiamo comunque andare dai due scagnozzi e farci inseguire e c'è una sequenza apposita in cui loro vanno incontro al fertilizzante perdono un po' il controllo però poi lo riprendono mentre invece se rovesciamo il cane non lo riprendono più e vanno a sbattere sì che poi oltretutto quella cosa che loro perdono un attimo il controllo ti serve come indizio perché dire cavolo devo fare qualcosa con questo con questo rimorchio e quindi dopo vai lì e qui ancora non lo sappiamo perché non siamo andati nella location però tutto questo serve di nuovo per introdurre un classico un classico espediente del game design per il recupero di tre oggetti che già abbiamo visto prima qui ce ne sono altri tre che vanno recuperati quindi eh ma mi sa che poi comunque ci arriviamo dopo sì 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 infatti ne approfitto per ricordare ancora una volta che noi non stiamo giocando al gioco ma stiamo guardando il filmato di gameplay fatto da Andrea Pannocchia del quale poi trovate ovviamente il link gli vogliamo un bene che è veramente furibili tantissimo tantissimo no che poi fa anche dei bellissimi gameplay o di giochi anche un po' sconosciuti come quando si è messo a fare quello di blindness insomma ho fatto molto piacere perché volevo vedere proprio quel gioco quindi lo ringraziamo sempre ecco poi questa sequenza è una sequenza automatica dove noi andiamo avanti cioè lui Ben va avanti da solo e noi possiamo decidere se prendere le uscite o no sì poi ne parleremo io vorremmo infatti volevo dire una cosa su questa tecnologia utilizzata però diciamo nel prossimo episodio in cui si usa di più sì nel prossimo episodio si vedrà di più spesso la cosa intanto qui i due i due ci inseguono no? quindi noi non dobbiamo fare niente se non andare avanti quindi non prendere mai nessuna uscita sì andare avanti e passare su quel punto con il fertilizzante come dicevi prima se ci passavamo senza aver rovesciato il rimorchio non succede niente loro prendono un attimo il controllo ma continuano a inseguirti invece con tutto quel fertilizzante lì ecco notare che la musica qui si ferma per dare appunto questo senso di suspense sì eccolo là e qui torna Rickburg non ho mai capito chi è la guida perché di prima era Boulos alla guida della lui musì sei sicuro di questo Boulos guidava l'auto sì nel sequenza iniziale non si vede lui non sono sicurissimo ma comunque a proposito nei commenti se sbagliavo qualcosa diteci specialmente la cosa di Star Trek nel caso diteci qual è l'attore perché siamo ignoranti anche quella di Elda Olivieri se avete delle non cercate di capire ora muovetevi sì qui Rickburger rimarca l'ignoranza di questi due e qui ecco qui c'è la questa scena molto bella perché noi attraverso questo cartello capiamo quale può essere la soluzione dell'enigma cioè come andare avanti sì infatti è qui proprio che viene detto palesemente di cosa abbiamo bisogno che sono tre oggetti sì senza il classico personaggio che ti spiattella lì hai bisogno di questo 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 tu guardi questo cartello vedi che c'è questo tizio che ha superato la gola usando un cannone o no una moto insomma sì una rampa un elevatore a cuscino d'aria e se non era il turbo e quindi da lì capisci che devi fare la stessa identica cosa quindi recuperare la rampa che poi è sempre la stessa visto che qui c'è scritto che è scomparsa quindi è stata rubata dai cave fish si capisce subito dagli stessi che abbiamo visto prima sì lui in effetti poi dopo si scopre che c'è una strada alternativa ma è troppo lunga quindi conviene saltare cioè non sarà un pazzo scatenato che prendisce saltare sì infatti è una cosa pericolosissima perché è anche poi un'altra sequenza mitologica che vedremo poi nel prossimo episodio sì qui stiamo arrivando verso la fine dell'episodio perché comunque la ricerca di questi tre oggetti è spostata nel prossimo episodio adesso ci fermiamo a questa presa di coscienza che servono appunto tra l'altro vedi come anche come Polkets che è stato detto che in italiano diventa Polkets anche Ricky Myron diventa Ricky Myron cioè molto spesso hanno fatto in modo letterale le pronunce quindi sì non hanno o non hanno internazionalizzato sì beh è una cosa che comunque sai questo poi è una delle primissime avventure grafiche tradotte in italiano sì doppiate oltretutto sì sì doppiate scusa non tradotte certo doppiate sì perché la prima mi sa che era Seme Max della Lucas sì Seme Max sì della Lucas ovviamente e qui si ferma il nostro episodio beh diciamo che adesso vi salutiamo e comunque speriamo che torniamo prima ecco che siate riusciti a di non avervi perso in questo mese di assenza comunque noi torniamo al prossimo episodio a breve quindi non non tanto al continuo di questo commento va bene vi saluto da Alberto Semprini a Geo è tutto ciao a tutti e a Natroni a tutti e a Natroni anche qui va bene ciao 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 ciao